Buon corso ragazze! Bravo! Buon corso ragazze! Eccola qua! Bravissima! Hittoria per Marta Trevitere! Per il secondo posto! Figlia d'arte! Nadia Sanzioclesi dal Trentino! Bravissima Nadia! Bravissima! Elisa Cannello! Da fine ore! Quarta! Ossica più atletica! Quinta! E' il mano del mestolo! E' il terreno di un'altra! E' il conosciuto! Giorda Ricando! Dall'aeroporto da Vastro Terri! Tra l'altro terreno del secchianese! Da Attenzio Camarano! E' il buon arrivo per... Giordano il cuo! Buon arrivo per Lealze! Per Siena Gazzari! Buon arrivo per Amici Tostini! Buon arrivo per Martina Ventura! non fermiamo l'applauso per Elisabeth ragazzi questa è la musica vera questa è la musica funtella forza come forza Elisabeth per Valeria forza buon arrivo per Federica Manco buon arrivo per Terza Fondali e per Lorena Canti Valetta Monica e poi sono arrivo per Elisa Marconi tra le altre e sono arrivo per Demi Sotterande Davino San Vittorio che è più vicino e poi per tutti e benvenuti Paola Arpolin da lei è la ragazza forza sono arrivo per Annalisa Pelico sono arrivo per Giulia Grinti per il popolo San Maurizio buon arrivo per Andrada Racatus buon arrivo per Ilario Emersioni Castilla Fesica e poi sul traguardo per il cartesce a piedi da Cilicello per la ragazza è una brutta è una brutta assoluta l'anno è una brutta che ha fatto una bellissima gara l'auspicio la speranza è che questi appletti e questi appletti possono crescere per maturare tranquillamente e diventare poi il futuro della nostra scuola non è 32 anni fa Geni di Napoli faceva 332 nel 2005 e poi ricordare cosa lo vittorio di Cionino Bordini lo vittorio di Paltini e altre persone possono essere ancora protagoniste a livello internazionale e poi tra le altre Alice Peruzzi e poi solo arrivo per Rebecca Pientor solo arrivo per Federica Cicterio e noi ragazzi che state avete arrivato sul trovato del compiace noi arrivo per Biora Nardello da provate Siamo i miei cadetti eccomi qua da seguire da colcolare e applaudire e occorre solo delle loro mamme e le loro frattano occorre dell'asletica Lombarda da Monti Andrea Film e mia film da prima Emanuele Fanchi e poi di Lombarda e Sperto Fanchi con i miei cadetti Giorgi con l'arrivo adesso per M20 tra Lombard con arrivo per Giorgio Sordi, qui arrivo per Matteo Sardioni e per Riccardo Serra, Riccardo Serra dell'attentato che ha ricevuto. E ragazzi, benvenuti da noi che faccio? Allora, per vincere Elias Min, 7.38, 7.42 falci, 7.44 maggiorini, 7.44 maggiorini, e mi piaci anche Roacur, Arturi, Gascobelli, Donaluni, Sordi e Sardioni, i primi 10 nell'arco di 23 secondi. Ricordiamo che lo scorso anno Nava, il Nava vinse il 7.43, stavolta nella smina il 7.38. E ragazzi, ben arrivati, buon arrivo per Matteo Sardioni, buon arrivo per Massimo Barocco, buon arrivo per Andrea Casati, e buon arrivo per Pietro Mazza, dai bravissimi, controvado come fa, portami giù la torna, dai, torta. E poi, c'è l'arrivo per Irko Sasso, per Luca Rusconi, per il team, c'è l'arrivo per Manuel Rettamico. Vengono per impegno tutti questi giovani che meriterebbero una campionata di applausi, per me che siete un partitici, eh, francamente. Questi ragazzi vanno circondati veramente di tanta passione, e quindi assecondiamoli e riempiamoli nella loro espressione spettiva, incoraggiamoli. Dai, è arrivato il rito Sanfilippo, sono arrivo per Simone Carminati, che stai, sono arrivo per Manuel Orcelli, sono tra i ragazzi, sono arrivo per un San Giorcese, Riccardo Soltiati, qui dei cadetti, forza, si stragrado adesso Giacomo Gartoni, sono arrivo per Rita Carinella, e poi per Roberto Pella. Grazie. 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 Grazie.